Ben ritrovati e telespettatori del VG 21 mattina. 8.04, siamo in diretta per parlarvi di un tema importante. Non solo il Covid, ma un vero e proprio virus che purtroppo ci sfugge. Perché? Perché quando c'è un positivo, lo sappiamo bene, cominciano sostanzialmente due tipologie di operazioni. Da un lato il tracciamento, dall'altro lato il sequenziamento. Tracciare significa ricostruire quella rete di contatti fondamentale per comprendere quanto quel soggetto abbia potuto contagiare altri soggetti intorno a sé. E invece il sequenziamento è un'analisi di laboratorio ad alta specialità molecolare che serve ad individuare la variante o che tipo di virus quel soggetto ha contagiato agli altri soggetti tracciati. Ci si muove su due fronti, ma due fronti che comunque presentano oggi delle difficoltà fondamentali. Che cosa si potrebbe fare di più? Perché per esempio il diffondersi della variante Omicron è qualcosa di cui, in parole povere, ci si accorge una volta che la variante è diffusa. Ma quanto con i dati si può prevenire anche la diffusione e quindi l'individuazione, il sequenziamento cioè di una variante? Ne parliamo con i nostri esperti e li salutiamo. Sono tutti quanti collegati in diretta il professor Giorgio Ventre, direttore scientifico iOS Developer Academy, il professor Giancarlo Ragosini, docente di statistica dell'Università Federico II, il professor Massimo Zollo che è coordinatore della Task Force Covid-19 del Change e poi il professore Massimo Bisogno, dirigente dell'ufficio Università Ricerca e Innovazione della Regione Campania, ideatore cioè della famosa piattaforma che tutti quanti noi conosciamo, che è anche poi diventata un'app che si chiama Sinfonia. E in esterno abbiamo collegato dall'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, già lo vedo il nostro Davide Uccella, che saluto. Resta lì Davide perché voglio partire con un'istantanea e voglio collegarmi subito con il professor Giorgio Ventre. Perché? Partiamo dal tracciamento, professore. Perché questo tracciamento dei contatti sembra fallito oggi? Ci descriva perché? Vabbè, allora, in primo luogo, buongiorno a tutti, grazie per questo invito. Allora, il tracciamento era fondamentale nell'inizio di questa pandemia perché era l'unica arma di cui noi avevamo a disposizione. Ed in effetti, diciamo, avevo visto che nei paesi che lo implementavano in maniera corretta è servito parecchio per cercare di limitare l'effetto del virus. Purtroppo in Italia si è fatta una scelta sbagliata, si è creata una app, diciamo, nazionale, che peraltro non parlava con i sistemi sanitari regionali, errore gravissimo, che ha limitato, diciamo, la sua funzionalità, oltre a tanti poi aspetti di natura che ho disegnato più di comunicazione e politica piuttosto che di natura tecnologica, perché, insomma, in un certo senso la tecnologia a quel punto era disponibile e funzionava anche bene. Si parla dell'app immuni, chiaramente. Sì, esattamente, parlo dell'app immuni. In questo, diciamo, è chiaro che però oggi, diciamo, la tecnologia potrebbe funzionare, se solo chiaramente noi andassimo a implementare questa famosa app immuni, finalmente la implementassimo correttamente. In realtà oggi il tracciamento viene fatto in maniera indiretta, cioè tipicamente nelle organizzazioni nelle quali un dipendente, una persona che lavora in questa struttura, viene riscontrata positiva, sono le aziende che autonomamente cominciano a fare un tracciamento per cercare di limitare la diffusione. È chiaro che però in un contesto in cui la vita è tornata abbastanza normale, cioè un contesto nel quale le persone escono normalmente e si incontrano per strada, il tracciamento diventerebbe molto complicato, perché andare a chiappare, diciamo, le centinaia di persone con le quali noi andiamo un attimo ad avere contatti nella vita di tutti i giorni fatta di un autobus, di un treno, di un supermercato e del posto di lavoro diventerebbe molto complicato. Quindi io direi che oggi la tecnologia, diciamo, ci potrebbe essere, ma temo che per i numeri con i quali oggi noi facciamo parte, diciamo, con i quali noi oggi dobbiamo avere a che fare, in realtà potrebbe essere effettivamente molto limitato l'effetto. Differente invece, chiaramente, tutti gli strumenti che servono a fare in modo che i contatti siano limitati, quindi chiaramente in questo, diciamo, i colleghi medici sono quelli che hanno il ruolo principale, cioè quello di effettivamente fornirci le armi necessarie per poter essere più più forti e quindi essenzialmente il vaccino e tutti gli strumenti che servono per ridurre l'impatto di questa... Professore Ventre, mettiamo una bella bandierina, il tracciamento e quindi la tecnologia che non sempre, in maniera sviluppata, aiuta in termini, ecco, lei parlava dell'App Immuni che non comunica con i sistemi, con le ASL locali, quindi delle difficoltà di tipo tecnologico. Bandierina sul tracciamento e su queste difficoltà. Professore Massimo Zollo, che è coordinatore della Task Force Covid-19 del Change, il Change è un centro di alta specialità di analisi delle biotecnologie molecolari, parliamo del sequenziamento adesso delle varianti, perché il problema del tracciamento potrebbe anche essere collegato al fatto che abbiamo pochi dati sulla Omicron e quindi a che cosa sta portando in tal senso l'attività del Change nella fase di sequenziamento del virus? Beh, guardi, in questo istante, per dirla tutta, il Change non sta lavorando sul sequenziamento del virus. Tendenzialmente in questo momento l'attività è prevalentemente locata presso il laboratorio del Cotugno, diretto dal professore Atripaldi, e dal laboratorio del TGM di Napoli. Dunque, dal punto di vista strutturale, diciamo, l'attività prevede una catalogizzazione, cioè l'identificazione tra le varianti di un certo per cento di positivi e di un sequenziamento random sui positivi. Ad oggi, diciamo, un'ultima visione di quelli che sono stati i risultati portati in banca dati di SAID, viene fuori che l'Italia ha il 3.1% di positivi su 3.562 tamponi sequenziati. L'esempio con l'Inghilterra è eclatante perché su 140.307 sequenziamenti hanno identificato 20.390 positivi all'omicron, quindi si parla di 14.5%. Questo dato è un dato a poco prima di Natale. Ora, ovviamente qua si può discutere dell'importanza dell'utilizzo di un sistema, di una piattaforma unica dove inserire i dati. Tendenzialmente quella che noi riconosciamo è quella internazionale che si chiama appunto G-SIDE. Il problema non sta tanto quindi al deposito dei dati, ma analizzarli in tempo reale e il secondo punto è ad aumentare il tracciamento, diciamo, il potere di sequenziamento perché questo potere ovviamente sta dicendo che sicuramente in Italia non abbiamo questa percentuale di positivi di omicron, guardando tutta la distribuzione. Questo lavoro di identificazione dei positivi ovviamente è molto rallentato e questa scelta di voler sequenziare una parte dei positivi in un momento così grave, quale quello dell'inserimento di questa variante e della sua capacità fortemente replicativa, ci crea il problema che in Italia non sappiamo esattamente quanti omicron esistono. Abbiamo un'altra bandirina, oltre quella del professore Ventre, tracciamento, problemi legati al tracciamento, la scelta di non sequenziare e quindi di analizzare la positività, quindi la probabile occasione di individuare altre varianti del Covid su tutti i positivi. resti lì perché poi, oltre questi problemi, nel tracciamento e nel sequenziamento ci sono per fortuna degli esempi virtuosi, delle belle iniziative anche uniche in Campania e in Italia. Davide Uccella, ben trovato, sei in diretta dall'ospedale di Pozzuoli, parlacene tu. Ben trovato a te e al tuo ospite ovviamente. Sì, ben ritrovati a voi e ringrazio ovviamente l'ingegner Salvatore Flaminio che dirige l'area tecnologica ed ingegneria clinica dell'Asda Napoli 2 Nord. Perché siamo qui? Siamo qui perché, ovviamente, nell'ambito di un coordinamento che il professor Ventre invocava, cioè questo raccordo che non c'è stato e che rappresenta sicuramente un vulnus in ciò che non è stato fatto. Invece ciò che è stato fatto dall'Asda Napoli 2 Nord è particolarmente interessante. Innanzitutto, sfruttare l'autonomia, l'indipendenza in chiave virtuosa attraverso la piattaforma a vostra disposizione. In cosa consiste, nel dettaglio, ingegnere, per chi ci ascolta, quali sono gli aspetti salienti che lei vuole sottolineare? Innanzitutto, buongiorno a tutti. Grazie di questo canale informativo. Abbiamo sviluppato semplicemente, internamente e a costo zero, una piattaforma informativa che riesce a gestire i casi Covid nella loro multidisciplinarietà, intendo dire dalla gestione delle scuole, da quella dell'integrazione con le USCA territoriali, al rapporto con gli MMG, i medici di medicina generale, i PLS e soprattutto a far sì che l'ASL abbatti quelle barriere anche da un punto di vista territoriale, ideologiche forse, tra virgolette, per un concetto di multidisciplinarietà che si integra in una squadra. Un concetto semplice, un concetto cioè lavorare in team per lavorare meglio, lavorare per tutti. Ecco, ingegnere, dal punto di vista dei numeri, quanti sono i soggetti coinvolti e in che misura poi siete riusciti anche a mappare, a tracciare i contagi? Allora, vede, ad oggi le dico dei dati aggiornati, ci hanno fatto segnalazioni per richiesta ad esempio di tamponi domiciliari per oltre 30.000 casi, abbiamo segnalazioni dalle scuole per oltre 12.000 casi e su un campione di 800 tra MMG e PLS hanno fatto oltre 200 autosegnalazioni segnalazioni gli stessi perché, le ripeto, anche un medico di medicina generale ad esempio può autosegnalare il caso anche relativamente al suo studio privato o ai collaboratori che Ivi in De Quo fanno quello che fanno cioè quotidianamente, la collaborazione con quella che è la medicina di prossimità, che è la vera arma che sfruttiamo anche come baso di concetto di informazione che questa piattaforma rilancia verso il territorio stesso. Ricordiamo anche che il lavoro dell'AS Napoli 2 Nord, dell'ingegner Flaminio, del suo staff è stato anche premiato in occasione dello SMAO e Antonio voi avete come ospite Skype nel Dottor Bisogno un'altra eccellenza che è stata premiata da questo punto di vista quindi in realtà adesso cerchiamo di aprire nel nostro focus il cosiddetto bicchiere mezzo pieno, poi noi torneremo con un'espressione che è un punto di forza, un altro punto di forza dell'AS Napoli 2 Nord e cioè scuola sicura e in vista dei prossimi giorni davvero è un'iniziativa interessante da scoprire a voi. E allora Davide lo anticipava, abbiamo in collegamento via Skype anche il Dottor Massimo Bisogno col quale Dottore vogliamo cominciare a parlare anche dell'app Sinfonia e di quelli che sono i numeri aggiornati al 27 dicembre 2021. Poi sull'app ci sono chiaramente tante altre curiosità però partiamo proprio dai numeri, dai dati aggiornati. Se può attivare l'audio, eccoci qua. Prego. L'app Sinfonia, nello specifico la sezione E-Covid del sistema Sinfonia, conta oltre 2 milioni di download effettuati. Nel 2021 è stata l'app per quanto riguarda i servizi di medicina più scaricata in Italia su entrambi gli store. Non è una questione solo di numero, questi numeri ci fanno capire che in realtà il rapporto con i cittadini può essere semplificato, può essere reso agevole e quando si realizza qualcosa di molto semplice, perché la nostra app è fondamentalmente semplice, non fa cose stratosferiche, dà la possibilità a tutti di ottenere in pochi tapp l'informazione richiesta. Noi abbiamo concentrato in un unico luogo tutto quello che è il mondo dei tamponi, il mondo dei vaccini, il mondo delle segnalazioni verso i medici di medicina generale, gli attestati di guarigione. L'idea alla base di questo sistema era quella di semplificare il rapporto cittadino-istituzioni. L'altra considerazione da fare è che questa app in realtà è una suite, un insieme di strumenti. Noi ne abbiamo messo a disposizione uno anche per i medici di medicina generale, che si chiama appunto Medici Sinfonia, è uno per le istituzioni. Tutti i nostri comuni hanno, questo forse è il primo caso in regione campagna, abbiamo 550 comuni, tutti i comuni della campagna collegati con la nostra struttura di comunicazione e i sindaci, che sono le autorità sanitarie preposte sul territorio, possono quotidianamente conoscere in tempo reale lo stato di avanzamento del virus. Questo dà la possibilità di poter intervenire in maniera tempestiva, di conoscere i punti di criticità del territorio, sia a livello locale che a livello regionale. Dottor Bisogno, la bellezza, ovviamente molti di noi in campagna abbiamo scaricato l'app Sinfonia ed effettivamente è molto intuitiva, semplice da utilizzare, che credo sia anche quello il concetto, ma oltre all'esempio virtuoso mostrato da Davide Uccella nel territorio dell'ASL Napoli 2 Nord, lei ci ha spiegato bene quanto quest'app, oltre ad essere scaricata in Italia con due milioni di download, quindi un numero incredibile, primato in Italia, ma ovviamente un'app di rilievo regionale. Adesso io voglio parlare col professor Giancarlo Ragozzini, docente di Statistica dell'Università Federico II, perché abbiamo cominciato con i problemi, abbiamo parlato degli esempi virtuosi, ma quanto se si tracciasse e sequenziasse in maniera approfondita, a tamburo battente, per utilizzare un termine semplice, il Covid, quanto e come avrebbe potuto giovare questo al controllo della curva del contagio, che soprattutto nelle festività di Natale ha avuto un balzo notevole in avanti? Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Allora, su un quanto queste azioni avrebbero potuto giovare, è difficile dirlo, sicuramente un tracciamento migliore, come diceva il collega Ventre, assistito dalla tecnologia, non tanto manuale, avrebbe aiutato e soprattutto in particolare azioni anche forse più decise, diciamo di quarantena, dei contatti ovviamente. Il vero problema è che, come sempre, come è capitato anche altre volte, noi siamo sempre un passo indietro, diciamo, rispetto al virus. Ci accorgiamo che la variante Omicron è arrivata quando già è arrivata e già si è diffusa. Su questo ovviamente giocano molto i numeri. Quando ci sono poche migliaia di contagiati, è possibile fare il tracciamento manuale così come facciamo. Quando ci sono 54 mila, ecco state mostrando il dato, contagiati, è impossibile pensare di fare un tracciamento manuale dei contatti. Anche perché tutti quanti noi siamo immersi in una rete di relazioni sociali su più strati, per cui un contatto, diciamo, veniamo in contatto su più livelli. Io faccio sempre, mi occupo di reti sociali, faccio sempre il caso del paziente 01, che poi non era un paziente chissà N di Codogno, che praticamente nel giro di 10, di 3, 4 giorni aveva incontrato gli amici a calcetto, la cena con gli amici, i parenti, il bar, e quindi queste reti di propagazione, se lei mi viene a chiedere, perché il tracciamento in questo momento viene fatto in questo modo, dice chi è visto negli ultimi giorni, probabilmente non siamo in grado di ricostruire esattamente le nostre cose. Quindi il tracciamento assistito dalla tecnologia sarebbe stato un aiuto fondamentale. Mi ricordo all'inizio c'erano state molte aziende che si erano impegnate, penso che anche al collega sarà stato contattato da aziende che volevano implementare sistemi interni di tracciamento, poi dopo si è visto che non c'era un reale interesse, lasciatemi dire, anche di legislativo, perché probabilmente se si fosse imposto a tutte le aziende o a tutti gli enti pubblici di tracciare e implementare sistemi di tracciamento interno, forse, diciamo, una minima imposizione per legge forse avrebbe aiutato. Invece una cosa sul sequenziamento... Mi sembra un altro bel punto che noi stiamo mettendo in questo ampio dibattito sul Covid che di fatto è un virus che ci sfugge. Allora cominciamo questo secondo nostro giro, vi chiedo risposte in un minuto e mezzo e sono certo che rispetterete questa tempistica. Riparto dal professore Ventre, perché ci sono delle carenze tecnologiche, ovviamente sottolineava il professor Ragazzini, allora io le chiedo, i bassi dati di Omicron derivano da carenze tecnologiche di personale e se sì, quali? No, non credo, come diceva il professor Zollo prima, il problema è semplicemente adesso per Omicron e cercare di avere una informazione quanto più precisa e dettagliata dello stato di diffusione in Italia e quindi, diciamo, sarebbe opportuno fare il sequenziamento su tutti i campioni o comunque su una percentuale elevata di questi campioni. Quello che vorrei dire però è che questa pandemia ci sta insegnando una cosa, cioè che la capacità di un paese di rispondere in maniera positiva dipende dalla capacità di questo paese di avere un'infrastruttura di tecnologia, di scienza, di ricerca adeguata. Allora in questo ci accorgiamo di una cosa, che nonostante tutto l'Italia alla fine sta rispondendo bene e la cosa ancora più confortante è che la campagna sta rispondendo bene, perché si vede come questo tessuto fatto di ricercatori, professori, di professionisti dell'informatica, di funzionari della regione. Effettivamente funziona e riesce a dare delle informazioni adeguate. La capacità, per esempio, dei sindaci di sapere qual è la diffusione all'interno del proprio comune del virus è fondamentale, perché non pensiamo alla grande città, pensiamo al piccolo centro, nel piccolo centro le misure possono essere più immediate, più rapide. Quindi la lezione che abbiamo imparato è che uno, dobbiamo essere pronti, secondo dobbiamo avere un'infrastruttura tecnologica e di ricerca scientifica adeguata, terzo dobbiamo lavorare insieme. Io credo che questo sia alla fine poi il messaggio che sta emergendo. Ecco, grazie, grazie professore Ventre, un bel assist per il professor Massimo Bisogno, perché mettere in rete è un po' il lavoro che lei ha fatto col suo team per l'app e per il portale della regione Campania, Sinfonia, una piattaforma, ma non basta mai, bisogna continuare a sviluppare ancora di più. Ci sono delle evoluzioni in chiantiere dal punto di vista tecnico, tecnologico o comunque funzionale dell'app? Sì, sicuramente. Infatti la nostra non è un'app, la nostra è un sistema, un ecosistema digitale dedicato alla salute e è proprio in quest'ultimo mese e mezzo che stiamo lavorando molto insieme alle ASL proprio per il contact tracing. La nostra piattaforma consente alle ASL di seguire i positivi e i loro contatti, costruendo i cosiddetti grafi dei contatti per arrivare a determinare quanto più è possibile una chiusura del cerchio ed evitare che il virus si diffonda. Così come nelle prossime settimane avremo delle grandi novità sul piano dell'uso delle tecnologie a favore dei cittadini per quanto riguarda tutti gli altri servizi che classifichiamo come ordinari, immaginiamo il CUP, lo screening, su cui siamo ormai pronti e partiremo a brevissimo. Quindi sul digitale c'è tanto da fare, si è fatto molto. Io voglio solo ringraziare tutti i colleghi che nei dipartimenti di prevenzione delle nostre ASL lavorano quotidianamente al tracciamento dei contatti. In queste settimane noi abbiamo visto un incremento enorme dei contagi. e seguire, fare il tracing di questi contatti quotidianamente con migliaia di positivi, abbiamo avuto in una giornata 4.800 positivi, che significa migliaia e migliaia di contatti che questi colleghi devono svolgere, proprio perché in assenza di strumenti tecnologici abilitati dalla normativa, non possono fare diversamente. Il professor Ventre lo citava prima nel caso Immuni. Il caso Immuni non è un problema tecnologico, è un problema di natura giuridica. Questo è il vero limite in Italia. Abbiamo posto problematiche di privacy davanti alla soluzione di un problema che poteva essere affrontato in maniera molto più efficace ed efficiente. Questo è un dilemma a cui saremmo costretti, ahimè, a dare una risposta nel più breve tempo possibile, perché probabilmente di queste situazioni non ce ne libereremo subito. Sì, anche perché poi la priorità restava chiaramente il tracciamento. Invece, tornando a parlare di sequenziamento con il professor Zollo, prima il dottor Bisogno ha ricordato i casi Covid anche legati alla variante Omicron sono purtroppo in aumento. E allora, professor Zollo, per potenziare il sequenziamento a livello di rete, sia come risorse che come personale, cosa bisognerebbe fare? Ma, diciamo, due sono i punti chiave. Uno, una cabina di regia di coordinazione per la distribuzione dei tamponi positivi, aumentare di gran lunga il numero di tamponi da sequenziare. Questo è il problema. Diciamo, tendenzialmente, se in Inghilterra abbiamo oltre il 15% di Omicron, quindi su 100 campioni ne troveremo ovviamente 15, se moltiplichiamo questo numero per un fattore di un, andiamo a 1.000, 2.000, questa capacità di identificare l'Omicron, perché il sequenziamento è l'unico modo per identificare, questa è una cosa che abbiamo omesso in queste discussioni purtroppo, per identificare una Omicron l'unico modo è il sequenziamento. E questa tecnologia, diciamo, aveva un alibi a circa un paio di anni fa, dove il costo e il tempo per l'ottenimento di questi risultati era praticamente due punti, diciamo, negativi a favore di questa tecnica, ma oggi abbiamo abbattuto i costi, siamo quasi arrivati a costi che sono un quarto del circa 20 euro per sequenziare un virus, che è molto meno di un costo di un tampone molecolare. E il tempo in questo momento, grazie ai macchinari che abbiamo, ovviamente i macchinari in Campania esistono, esistono centri adeguati, e si potrebbe addirittura moltiplicare per 10 quello che è l'efforto in questo momento, che è stato messo in organizzazione. Io sono convinto che il tempo è molto importante, che quindi sia fondamentale nel momento in cui c'è bisogno di sequenziamento, che si amplia di gran lunga la fetta dei laboratori che possono partecipare, ovviamente con competenze, questo è l'altro piccolo peccato di cui, diciamo, soffriamo, sono associate attività di sequenziamento in Italia laboratori che non hanno proprio alcuna competenza nel produrre il dato velocemente e di qualità. Anche perché rispetto ai milioni di quanti ne siamo in Italia, professore, i laboratori attrezzati sono relativamente pochi, ma ci sono degli esempi virtuosi. Allora, Davide Uccella, in conclusione da te, perché uno dei problemi adesso del contagio e la diffusione del virus tra i banchi di scuola, quali novità all'ASL Napoli 2-9? Ecco, diceva il dottor Bisogno per l'App Sinfonia, beh, il dilemma di immuni si dovrà risolvere nel più breve tempo possibile. Allora, questo mi sembra un assist perfetto per un altro dilemma che si dovrà sciogliere e che Ingegner Salvatore Flaminio, che lo ricordiamo, dirige l'area tecnologica e di innovazione clinica dell'ASL Napoli 2-Nord, saranno i dettagli di questo screening straordinario per la scuola contenuto nel decreto festività approvato giovedì scorso dal Governo. Voi a questo dilemma avete trovato già una risposta con un'espressione molto chiara che le chiedo di spiegarci. scuola sicura. Che cosa significa? Beh, vede, come hanno già detto anche tutti gli autorevoli, i miei colleghi o professori che abbiamo prima intervistato durante la trasmissione, abbiamo reso semplice l'informazione anche per questo mondo diverso dal mondo della sanità, che è il mondo dell'istruzione, quindi il mondo della scuola. Loro accedono a questa piattaforma attraverso il codice meccanografico dell'Istituto. Cioè accedono quindi ad un'informazione attraverso un canale che per loro già è consueto. Quindi tutto quello che abbiamo detto prima è avvicinare sempre il cittadino, ovunque sia, in qualunque istituzione, al mondo della sanità attraverso la giusta informazione. Io lo ripeto sempre, informatica vuol dire informazione automatica, fondamentalmente la giusta informazione. Il corretto lavoro in team può consentire questo avvicinamento, questa semplificazione dell'informazione che porta alla fine al bene, no profit, salute per tutti. Ecco, le chiedo in conclusione, sempre a proposito di scuola, sempre a proposito dei nostri ragazzi, anche perché dati recentissimi dell'Istituto Superiore di Sanità ormai indicano che la fascia 5-11 anni è quella più suscettibile a fungere anche da volano dei contagi. Ecco, voi attraverso Scuola Sicura come intervenite su questa fascia e poi se anche nelle prossime settimane ecco appunto si parlava di fare rete anche d'accordo con le altre autorità, anche altre istituzioni che abbiamo coinvolto in questo segmento, come si procederà con questa piattaforma specifica che voi avete sviluppato? Vede, abbiamo integrato il mondo della scuola in diretta collaborazione con i referenti scolastici e il nostro Dipartimento di Prevenzione che ha nel suo vasto territorio il nostro di competenza che le ripeto è per ben oltre 32 comuni a dei singoli referenti nel Dipartimento che rendono ai referenti della scuola l'approccio alla piattaforma in maniera semplice, diciamo così semplice che rende il tutto ancora più utile perché è nella semplicità che le ripeto c'è l'arma vincente al di là di quello che hanno detto i miei colleghi da Massimo Bisogno, mio caro amico in poi, lavorare in team è il vero successo, lavorare per una giusta e semplice informazione. Insomma, la morale è chiara, Antonio, Fabio, bisogna fare squadra. Noi siamo certi che sarà così, intanto vi salutiamo dall'ospedale Santa Maria delle Grazie, grazie ovviamente all'ingegnere Salvatore Flaminio, a Napoli 2 Nord, a voi. Grazie a te Davide, chiudiamo il nostro dibattito con il professore di statistica Aragazzini. Allora, bisogna fare rete. Tutti i tasselli ci sono, 30 secondi evidentemente, l'unico tassello che manca in questo grande mosaico del tracciamento e del sequenziamento è proprio un aiuto, una modifica di tipo legislativo per intervenire sulla privacy affinché ogni operazione di tracciamento possa svolgersi con l'aiuto della tecnologia nel più breve tempo possibile, che poi è la soluzione più utile per prevenire il virus. Sì, diciamo che, come dicevo anche prima e come dicevano i colleghi, probabilmente un aiuto legislativo è un po' di obbligo, talvolta obbligare piuttosto che incoraggiare come è stato fatto potrebbe servire anche a mettere in comune i dati, probabilmente, perché i dati spesso sono anche, prima abbiamo parlato anche della necessità dei dati, i dati spesso sono, le piattaforme regionali a volte non comunicano fra di loro, il collega Zollo diceva anche un coordinamento nel sequenziamento, probabilmente piani di campionamento più adeguati per il sequenziamento consentirebbero di avere anche informazioni più precise e più dettagliate, piuttosto che, diciamo, percentuali di incidenza generiche, ma anche dati territoriali che sarebbe importante avere in questo momento. Grazie, grazie veramente a tutti, al professor Ragazzini, docente di statistica della Federico II, al professor Giorgio Ventre, a Massimo Zollo, al dottor Massimo Bisogno, di regione esterna a Davide Uccella. Grazie, a presto, noi adesso ci fermiamo. Un piccolo break pubblicitario, ma ritorniamo tra poco con la magia del circo di Natale.